Progettista Lucio, da questa parte. Ma... ma questa... questa non è una villa. È praticamente un'intera città. Come se non bastasse, ho sentito dire che l'imperatore Adriano l'ha progettata tutta da solo. Ci sono persino delle terme di altissimo livello. Oh no, accidenti, ci risiamo. Sono il centurione Celio Clemente. Giungo da Roma con il progettista di bagni Lucio Modesto al seguito. Avete accumulato un grandissimo ritardo. L'imperatore vi sta aspettando nella villa d'Aore. Lucio, puoi proseguire. Non ci sarai. Lucio, puoi creare. Maui. Ah!